ahahah ahahah oh beppo ma parli ti devi stare zitto grazie 3 2 1 2 1 2 ragazze e ragazzi oggi siamo ritornati qui con un ultimo video questo video si tratta di un video molto bello perchè è una challenge con i bicchieri di plastico sono 100 bicchieri di plastico e ragazzi con questi 100 bicchieri di plastico dovremo fare una torre gigante e chi fa la torre più alta in breve tempo vince in meno tempo giusto si ok quindi 3 2 1 1 partiamo si com'era certamente si ragazzi guarda che io da piccola avete che sul mobile c'era una bicchiera con questi pirammi mia mamma mi urlava si sporcano il bicchiere mi urlava mi impedivano di fare oddio raga è troppo figo io vorrei che i miei bicchiere anche mi piace però non mi piace tanto pure gli altri non mi piace non mi piace non mi piace non mi piace oh my god ho già fatto questa dolore non mi piace 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 se la faccio solo con cinquanta non mi piace non mi piace non mi piace non mi piace se la faccio solo con cinquanta No dai, non puoi, non puoi, riparti, ah, e mi vuoi, ma vabbè non ci credo, mi fai dover sul serio, ma tutti al centro siamo sicuri, ma qua non ne possiamo, siamo solo quattro, no vabbè raga, c'è tipo, mio dio no, Ma sono appiccicosi, sti cosi, è normale, appiccicosi, li dobbiamo lavare, oddio, già è finito, Genia non mi puoi buttare i bicchieri per terra, io, Giura attenta che sta traballando, eh, papà, zitti, la reggita ti prego, ti scongliuro, io non mi sto dettando, perché è caduta la mia, quindi io devo far perderseli, no, mai, No, ti prego, i suoi capelli fanno cadere la maturra, la farò non cadere, la farò non cadere, No, 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 no Sì ma va in pendenza, io lo vedo che è cala nooo ma se deve cadere pure a te no, si giulia, giulia, giulia che mi stava cadendo ti dico già anche questo grazie forse non sono stato io marghe ce la sta quasi facendo con calma, vediamo un po' marghe oh beppo ma parli ti devi stare zitto grazie ci hai zitto grazie zitto mi sta credendo help me zitto nooo nooo ma nooo ma nooo ma nooo ma nooo ma nooo ma nooo va bene a questo punto c'è da dire che da casa voteranno chi è stata più brava c'è nessuno c'è tutte e due raga sentite nooo 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 ok allora passiamo a me va bene 3 2 1 nooo quindi ragazzi questo era il video epic fail bloomer quello che vi pare chiamatelo come volete io non ci sono riuscita provateci voi da casa mandatevi una foto in direct su instagram voglio capire se voi ci riuscite guardate che se imbrogliate io me li conto con i bicchieri eh conto tutti i bicchieri voglio vedere se ci riuscite voglio vedere è difficilissimo capito è difficilissimo ok quindi 3 2 1 GO quindi ragazzi in questo video spero vi sia piaciuto andrò è piaciuto quindi è bellissimo nooo iscrivetevi a instagram margigilia kawaii real su facebook margigilia kawaii real su secondo canale margigv su musicali piacciono a margigilia kawaii real se volete le maglie, le cover, le tappe, le cuscine e tantissime altre cose in altissimi altri colori andate su www.margigilia kawaii.it se vi ti è piaciuto allora se volete acquistare le nostre magie no l'hai già detto che manca ricordatevi che io margiglia io giulia insieme a voi formiamo la magic band cioè amore puro se vi è piaciuto lasciatela commentate e iscrivetevi al canale che non vi piace un po' insieme a voi insieme a voi ciao 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 ciao